A breve andremo in Consiglio Comunale per approvare il conto consuntivo e subito dopo per sottoporre al giudizio del Consiglio Comunale il bilancio preventivo di gestione e continuare poi a lavorare per dare risposte in merito ai loculi cimiteriali per i quali i cittadini aspettano ormai risposte immediate. I loculi al cimitero abbiamo fatto due interventi importanti, il primo è stato quello di acquisizione da parte del Comune dell'area dove devono insistere i loculi, l'area non era nostra, abbiamo acquistato l'area, abbiamo fatto l'accordo con i proprietari e adesso passiamo alla fase progettuale, abbiamo fatto il primo intervento che è stato il progetto preliminare, adesso stanno andando avanti gli uffici per l'esecutivo e quindi fare in modo che partiamo con la gara. Consuntivo? Consuntivo è pronto, l'abbiamo approvato in giunta, è stato convocato anche il Consiglio Comunale il 21 maggio dopo i 20 giorni canonici per la disponibilità ai consiglieri da quando i revisori dei conti hanno espresso il loro parere che è un parere favorevole, positivo e quindi il 21 maggio andiamo in Consiglio per l'approvazione del Consuntivo. E subito dopo il preventivo. E adesso stiamo già lavorando per il preventivo, mi auguro già sempre nel mese di maggio di portare anche in aula il preventivo.